Presidente Marsilio, 17 nuovi autobus tua rappresentano la flotta del futuro, adesso sta per iniziare il nuovo anno scolastico, il 24. Quali sono le prospettive, anche alla luce delle misure di sicurezza per il Covid? Questi nuovi mezzi arrivano al momento giusto, al momento topico in cui si riaprono le scuole e nell'anno in cui ne abbiamo bisogno di un maggior numero di mezzi per poter portare gli studenti e i lavoratori a scuola in sicurezza. È un lavoro importante, è faticoso, fatto nell'emergenza e nei tempi stretti, è un pullman, un autobus che non si realizza in un giorno, non si compra al supermercato, però la nostra azienda di trasporto regionale, la tua, sta facendo uno sforzo molto importante e serio e consegnare oggi questi 19 mezzi nuovi, moderni, efficienti, ecologici, sicuramente molto migliori, con un'impronta ecologica molto migliore dei vecchi mezzi che abbiamo ereditato, servirà anche a garantire un servizio molto più efficiente per i cittadini a tutto raggio, non soltanto per la scuola.